Non l'avevo ancora mai vista lei, perché va troppo rapida, poi si sono dimenticati anche gli stopponi dietro perché... ah no ci stanno, era uno scherzetto di quel inglesotto lì, quel british che fa il furbastrone, che me ne disegna, guarda com'è moderna monocromatica, va tanto l'oro bianco, va tanto il platino e loro l'hanno fatta un po' rapida, insomma vogliamo dire che è stupenda, non è male, non è Mario, è un segmento che non adoro, preferisco essere più aggressivo, meno porte, meno bauli, molta più cavalleria, però quelli bravi, quelli che pare fossero latini, dicevano degustibus, non disputando mestre, ecco bravo, valla la vai e metteci un po' di benza, se no sto weekend, quella che hai chiamato, mi sa che la porti Massimo, non lo so, verso Viterbo, te finisce, allora essi bravo, sii rapida, con ste quattro porte, dagli una lavata, mettici una piotta e che Dio dà avanti buona, e secondo te sto male, a ognuno è il suo, e thank God it's Friday, è il sole alto in cielo nella capitale, davano neve, non ne vedo tanta, se nevica è stupenda perché non è molto usuale, se piove è il tempo suo, e se c'è il sole, ma secondo te sto male, fammola finita e lamentasse, gambe e spalla e pedalare, io me ne vado a fatturare, viva la vita!